Sono Eraldo Estenico, ho 60 anni, vivo nella città di Piracicaba e stato di San Paolo in Brasile. Le mie origini trentini sono da parte del papà di Romagnano Trento e da parte di mamma Albiano Valdecembra e sono il coordinatore dei circoli trentini della zona norte del Brasile che comprendono 14 circoli, ma sono anche coordinatore generale di tutti i circoli trentini in Brasile, che al totale sono 61 circoli. Le zone di provenienza di questi associati sono di tutto il Trentino. Le attività che svolgono sono, nella sua maggioranza, fanno sagri, corso di italiano, tanti hanno gruppo folcloristico, cori, fanno anche tutte le attività per promuovere la cultura trentina in Brasile.